A pochi giorni dal dietro fronte governativo sul reddito di cittadinanza regnano timori e incertezza in merito a una criticità sociale che pare scaricata sugli enti locali. Secondo i dati IMSS elaborati da Ires Cdl Marche, nella provincia di Pesero Orbino i percettori del reddito di cittadinanza al 31 dicembre del 2021 erano 4.069 nuclei familiari mentre le persone coinvolte 8.769, una fetta sostanziosa dei quali gestita dall'ambito territoriale sociale 1. Oggi nell'ambito sociale territoriale perché gestito una parte del reddito è gestito dall'ambito sociale territoriale ci sono 4.000 persone di cui quelli che direttamente gestiamo noi sono solo i 2.400 perché è importante spiegare perché molti non lo sanno che il reddito di cittadinanza è sempre stato diviso in due dove c'è una parte gestita dai centri per l'impiego dove c'è tutta la tipologia e la casistica di persone che possono essere rinserite in un contesto lavorativo. Poi c'è quello sociale che è quello che ho gestito io come presidente dell'ambito dall'inizio del progetto del reddito di cittadinanza e sono queste 2.400 persone che però oggi non vengono ancora toccate da questa diciamo riforma. in realtà all'inizio del 2023 il governo aveva dichiarato di interrompere il reddito di cittadinanza a steppe e dava 7 mesi a quelli che sono inseriti al centro per l'impiego nel contesto di inserimento lavorativo e infatti oggi le proteste vengono da lì, da quella fascia lì perché entro luglio e sono scaduti, luglio e agosto sono scaduti e non verranno rinnovati più i sostegni economici a questa tipologia di utenza che era nel reddito di cittadinanza. L'altra quella sociale ha la scadenza a dicembre 2023 quindi ancora saranno sostenuti fino alla fine dell'anno. In realtà noi siamo preoccupati sia in questa fase ma anche per il dopo perché non abbiamo chiaro cosa succederà nel 2024 e quali saranno e che entità avranno i sostegni che avrà indicato e individuato il governo per sostituirsi a quelli del reddito di cittadinanza.